Dieta. Chiesi a un dietologo che mi faceva alla corte un consiglio definitivo per dimagrire. Lui mi disse che mi avrebbe mandato per posta uno strumento infallibile. Quando aprì il pacchetto trovai un cerotto di circa 10 centimetri e questa prescrizione da applicare sulla bocca al momento dei pasti. Commento. Chi vuole veramente dimagrire dimostra che la sua volontà spirituale ha deciso di dissociarsi dal corpo fisico.